Parliamo di calcio e di Reggiana, buongiorno Nicola Simonelli e segretario generale della Reggiana, benvenuto. Allora, quando abbiamo deciso questa vostra presenza, volevamo parlare e fare un po' il punto anche su Via Agosti, su come sta andando l'attività lì, però non le posso non chiedere com'è l'attesa per il big match di sabato. Stiamo preparando nel miglior modo possibile, sono una di quelle partite che si preparano da sole, nel senso che ovviamente l'attesa è per tutti, siamo pronti, preparati e stiamo cercando di creare le condizioni ideali per poter organizzare sia un bello spettacolo all'esterno, sugli spalti, con l'aiuto e con l'invito della presenza di tutti i tifosi, sia in campo, quindi i ragazzi stanno preparando al meglio come stanno facendo poi per tutte le partite, perché comunque è uno delle tappe, non è l'unica, l'ultima tappa, non è l'unica tappa di questo percorso. Senta, tra l'altro abbiamo alcuni naturalmente telespettatori accaniti su Porter Granata, anche stamattina hanno scritto, tutti allo stadio, insomma c'è anche la voglia della città e dei tifosi di sostenervi, chiedevano addirittura anche dei prezzi speciali per i bambini, a un euro, un euro politico, insomma, già i prezzi sono naturalmente molto bassi per i più piccoli, soprattutto. Certo, allora, per questa partita è la giornata Granata, come facciamo ogni anno, lo scorso anno è stata quella col Modena, quest'anno è quella col Lentella, quindi è una partita fuori abbonamento, però non sono stati ritoccati i prezzi dei biglietti, sono stati lasciati uguali come per tutte le altre partite, quindi non ci sono stati rincari e tutte le iniziative per i bambini che ci sono, quindi legate alle scuole calcio, alle scuole e quant'altro, sono presenti con disponibilità di biglietti, per tutte quelle situazioni dove sono presenti dei minori, dove ci sono delle agevolazioni, quindi attraverso proprio le scuole, le scuole calcio e quant'altro, c'è la possibilità di entrare sempre in modalità agevolata. Peraltro c'erano i dati che avete diffuso ieri sera sulle prevendite, insomma stanno andando bene? Siamo già stamattina, siamo un po' di più, siamo a 1850, ieri sera non a 1750, ho controllato proprio prima di entrare, ce ne aspettiamo molti di più, quindi invitiamo tutti... Quanti ne vorresti? Vabbè, lo stadio pieno ovviamente immagino. Lo stadio pieno, cerchiamo di superare quello che è stato i numeri di Cesena, che erano 7500, bisogna cercare di superare i numeri fatti all'andata col Cesena, quindi invitiamo veramente tutti a venire allo stadio. Le posso chiedere, insomma, per coloro i quali magari seguono meno e non sono così addentro al calcio, effettivamente questi tre punti in più, se dovesse, facciamo tutti gli scungiri del caso, andare bene la partita, effettivamente potrebbero dare la svolta al campionato? Ci sono ancora otto partite, quindi sono tutte importanti uguali, questa è una tappa, è una tappa importante, però non è l'ultima, perché poi ci saranno altre partite difficili, nessuna partita è semplice, anche quella di domenica scorsa, che se uno guarda il risultato è sembrata una partita semplice, non è stata così, nel primo tempo comunque, fino a quando non è stata toccata, non è stata una partita semplicissima, ci sono mille condizioni che possono mettere in difficoltà, quindi non dobbiamo abbassare la guardia in nessun caso. La matematica ancora non c'è, no, no, è ancora lunga, quindi subito dopo ci sono altri importanti appuntamenti, andremo a Ponte d'Eramanta di Sera, quindi è un'altra partita importante, quindi dobbiamo affrontare step by step, partita dopo partita, concentrati, come stiamo facendo in tutte le gare che stiamo affrontando, nello stesso modo, è una tappa importante, ma non è la tappa decisiva assolutamente. L'infermeria com'è? Stanno tutti bene, stiamo recuperando tutti, abbiamo recuperato Montalto che è andato in panchina domenica scorsa, anche gli altri lungodecenti stanno seguendo il loro percorso di recupero, quindi direi che anche da questo punto di vista stiamo bene. Diciamo che appunto tutta l'attività va avanti, anche del settore giovanile e appunto abbiamo raccontato anche dei nuovi spogliatoi, dei nuovi spazi di via Agosti, come sta andando? Siamo nel percorso che stiamo costruendo, che abbiamo segnato insieme al Comune, per cui essendo questo proprio un progetto fatto insieme con l'amministrazione, sono stati inaugurati gli spogliatoi del settore giovanile, tra l'altro con questa rigenerazione urbana, quindi sia per quanto riguarda il lavoro di ristrutturazione degli vecchi spazi, ma anche con questa valorizzazione dell'ambiente attraverso proprio queste, anche murales che sono stati fatti sui muri esterni dello stadio, proprio per, degli spogliatoi, proprio per raccontare un po' la storia granata. Per il resto gli spogliatoi della prima squadra stanno seguendo il loro percorso, questa è una delle attività e delle costruzioni che sta seguendo direttamente l'amministrazione. Il campo della prima squadra è praticamente finito, per cui stanno portando avanti le opere proprio di manutenzione ordinaria, per farlo trovare pronto appena potremo entrare, e nel contempo c'è il lavoro sia su quello che è la manutenzione ordinaria dei campi del settore giovanile, in attesa di continuare con quelli che sono i prossimi step, quindi quello che sarà lo store, quello che sarà la sede e il campo in sintetico fatto insieme all'amministrazione. Quali sono i tempi che vi siete dati, anche col comune, perché naturalmente non dipende solo da voi. Stiamo seguendo i percorsi per cercare, per entrare entro la fine della stagione, di questa stagione, su quello che è il campo della prima squadra, quindi questo è un obiettivo, con la prossima stagione tutto il resto, quindi cerchiamo di arrivare pronti alla prossima stagione con, se non tutto, quasi tutto. Intanto è bello che stiamo vedendo proprio le immagini, che venga veramente, come diceva lei, rigenerato un luogo che è un luogo storico, perché anche quella struttura dove sono gli spogliatoi, io andavo a scuola lì sopra, perché c'erano alcune classi delle medie della Galileo, mi ricordo, e guardavamo anche gli allenamenti della Reggiana, sono insomma i luoghi veramente storici, ed è bello che vengano comunque rigenerati anche in questo modo, queste murales belli, mi piacciono. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa, insomma, voi state peraltro, mi sembra, in questa stagione sportiva, più che in passato, proprio facendo tante, tante, tante iniziative su vari temi che riguardano i giovani, col territorio, con l'università, è un'impressione o veramente in questa stagione sportiva ci sono tante cose che avete messo in campo in tutti i sensi. No, è assolutamente una cosa che stiamo seguendo, perché crediamo veramente che la società, una società sportiva, debba lavorare, essere presente con il proprio territorio, anche sui temi sociali, un tema di responsabilità sociale, di sostenibilità a 360 gradi, che non è solo sostenibilità economica, ma anche sostenibilità sociale. Di conseguenza, proprio su input della proprietà, del direttore generale, e un po' di tutti coloro che lavorano all'interno di Reggiana, c'è stato un grosso investimento anche da un punto di vista di relazioni, di progettazioni condivise sugli ambiti sociali, su quello che riguarda proprio la disabilità, sull'attenzione al disagio minorile, quindi un lavoro in un tavolo condiviso con la Questura, la Prefettura, per quanto riguarda, e l'università, proprio con queste tematiche. C'è un progetto europeo a cui noi facciamo parte, insieme a UEFA Foundation, nelle federazioni di Malta, Zerbaigiana e Moldavia, sull'abbandono scolastico, proprio come il calcio può essere anche uno strumento per combattere l'abbandono scolastico, tra l'altro l'abbandono scolastico è una provincia di Reggio Emilia a una percentuale molto elevata, e di conseguenza cerchiamo di essere impegnati anche su questo tema, perché riteniamo proprio che come lo sport abbia una responsabilità verso il proprio territorio, anche su quelle che sono tematiche sociali. Anche la sicurezza stradale tra le iniziative. Forse anche la strada porta poi a tifosi consapevoli, tifosi che siano veramente anche cittadini, per evitare scene. Per fortuna a Reggio non si sono visti, si sono visti in passato in misura molto minore, ma a volte purtroppo il calcio è protagonista di comportamenti che non sono per nulla sportivi e non sono nemmeno civili. Sì, può essere da quel lato, ma può essere anche uno strumento fortemente inclusivo, uno strumento fortemente educativo, quindi noi stiamo cercando di cavalcare questa strada proprio per come diceva lei, per riuscire a creare un forte senso di appartenenza, un forte senso di responsabilità verso quello che possono essere delle strade positive in cui possiamo andare insieme attraverso il calcio. C'è un messaggio di un signore che scrive, visto che in Serie C ci sono società con strutture da Serie A, non è il caso che la Lega ristrutturi questa Serie C? È un tema importante sicuramente, la ristrutturazione della Lega, anche ieri il Presidente Federale, il Presidente Gravina, ha rilanciato la necessità proprio di una riforma di tutti i campionati, quindi non solo quello della Lega Pro. C'è stata appena adesso l'elezione del nuovo Presidente di Lega, tra l'altro Emiliano anche lui, quindi Marani è diventato giornalista, tra l'altro è diventato Presidente di Lega. Il nostro Presidente è in Consiglio di Lega, quindi potrà portare anche delle idee che tra l'altro avevamo già espresso con la Presidenza precedente per una riforma del campionato che è sicuramente necessaria. Ci sono modalità di affrontare la Lega Pro molto diverse fra le 60 squadre, quindi forse anche un ripensare il modello di campionati è necessario. Tra le varie iniziative domani, visto che è l'8 marzo, naturalmente c'è anche il tema delle donne dello sport, presentate il libro di Katia Serra, una vita in fuorigioco, proprio perché appunto abbiamo detto e sono tante poi le iniziative fatte. Sì, tra l'altro oggi alle 11 e mezza lanceremo alcune iniziative che saranno presentate domenica alla stadio proprio in occasione di Reggiana Entella per quello che è la giornata granata. Domani proprio ci sarà questo lancio di questo libro e questa attenzione verso il mondo femminile. Reggiana ha rilanciato proprio anche il settore femminile con tre squadre del settore giovanile, Under 12, Under 15, Under 17, con alcuni partner, non li chiamerei neanche sponsor, soprattutto con la società Sistemi, con Francesco Crescuolo che si è preso a cura il settore femminile, quindi proprio stiamo cercando di lavorare a 360 gradi proprio per cercare di sviluppare tutta la società su tutti gli ambiti, tra cui l'ambito femminile, domani saranno protagoniste. Grazie per essere stato con noi, grazie mille.